Allora ieri probabilmente ho condiviso questo pensiero con prefetto e questore bisognava organizzare un momento di riflessione con più cautela, con più attenzione perché il momento è delicato per tutta la città. Dobbiamo evitare di inseguire qualche personaggio anche pubblico che strumentalizza le tragedie, tragedie che purtroppo poi nulla hanno a che vedere con la vera vertenza Ilva. Ieri sono stato l'unico con coraggio a uscire dalla porta principale della prefettura perché ritengo doveroso il confronto con i cittadini. Per fortuna quei cittadini che contestavano con violenza in maniera antidemocratica sono una frangia ben nota che non incarna nemmeno il vero ambientalismo moderno che c'è in questa città. Non c'erano i lavoratori, non c'erano altri cittadini e quindi come dire sono sereno rispetto al fatto che questa città sia ancora una città seria, responsabile e che voglia voltare pagina rispetto a questa vicenda.